tra l'altro venerdì 13 settembre che secondo gli americani e anche gli anglosassoni porta male ma secondo noi no il 13 ma ci sono ragioni storiche per cui per loro porta male per chi per loro per gli americani anche gli anglosassoni ma se non me ne frega a me che mi chiama pasquale ma ci vuole la barzelletta ma se questi voi non tenete manco lo vedete andate con le pallette al rete locale non potete fare manco lo vedete e state a parlare voi ma è chiaro che siete sfortunati che se parlò tra la rete locale ma come può fare ma chi vuole parlare grazie signore edoardo del blanco grazie a seguito ma grazie signor mancini grazie a tutti è un pensiero bellissimo in bacione a tutte le persone sofferenti certo